Il K2 SAE Moniglia, 8.17, fazzoletto recuperato per bloccarlo, accordatore autocostruito, il solito fogli switch, è un LC, canna da fresca e poi giù in slooper a prendere l'altra estremità, qui siamo a ridosso della scogliera, un po' chiusi, ma fa niente. Il collegamento comunque è riuscito, segnale 8. Paolo, segnale 8, perché questo qui è il postecino con l'antenna, giù in fondo un campeggio. Italia Whisky 2 MXE, QRP 2 Watt. E questa è la postazione, canna da pesca e poi giù in slooper fino a in fondo. 40 metri.